Ha compiuto da poco tre anni l'associazione Please Sound Ollus, abbiamo qui la presidente Giuseppina Mogetta, un'associazione che nasce per i diritti per tutti, vuole guardare alla dignità, alla formazione, alla libertà e alla solidarietà. Nata quasi tre anni fa, con quali obiettivi? Con gli obiettivi che lei ha già concretizzato. In particolare noi vogliamo essere un supporto a chiunque faccia fatica a vedere riconosciuto il proprio diritto. Molti di noi sono insegnanti e pertanto è anche attraverso la cultura fondamentalmente che difendiamo la possibilità di acquisire una dignità. Nel Tamil Nadu lavoriamo da un anno, un anno e mezzo. Lì abbiamo finanziato diversi progetti anche con l'aiuto di studenti della scuola superiore a vantaggio della formazione delle donne. Significa che paghiamo la sarta o paghiamo qualcuno che insegni un mestiere in modo che poi queste donne possano sviluppare appunto nelle proprie case oppure insieme in gruppi di reciproco aiuto un'attività. Oggi abbiamo una cinquantina di sarte che hanno già ricevuto la loro macchina da cucire, che hanno un tutor che collega la loro casa, la loro capanna con la città, con l'azienda e porta denaro mentre porta via i capi che essi hanno cucito. L'India non riceve altro che denaro e io devo veramente lodare il popolo stesso di Macerata ma anche delle zone intorno e anche fuori di Macerata perché alcuni nostri soci sono fuori di Macerata per quello che essi ci danno. In denaro per le donne ma ce lo danno anche per esempio per comprare animali che possano essere di supporto alla famiglia più povera del villaggio. Nella zona dove noi stiamo lavorando ci sono circa 81.000 persone distribuite in 160 villaggi. Abbiamo lì bambini che in concreto l'unica cosa che non fanno è sorridere, però se hanno una dignità, una capacità di autocontrollo e anche di impegno li sosteniamo con adozione a distanza. Ne abbiamo ancora 18 da affidare per quest'anno ma quando saranno affidati siamo arrivati a quota 90 e questo fa particolarmente onore a quelle famiglie che ne hanno in adozione 1, 2 oppure 3. Il progetto è un progetto che abbiamo unito alla nostra festa di terzo anniversario che celebreremo il 25 ottobre al Parco Hotel di Pollenza e cioè finanziare con quello che la gente vorrà regalarci un pollaio, mettere là dentro delle galline, piantare qualche albero da frutto in modo che questi bambini non mangino più solo riso e poco altro. La gratitudine che voglio esprimere a tutta quella gente di macerata, di fermo, di qualunque paese ci sia intorno che ci aiuta, che crede in noi e in nome dei quali portiamo avanti con molta serietà la decisione di non deviare nulla di ciò che riceviamo.